Mister Isidoro di meglio della rinascita. Mister è una rinascita istica che viene da 5 risultati utili consecutivi. È importante continuare con questo atteggiamento? Assolutamente sì, anche perché ci troviamo ormai arrivati a 6 partite dalla conclusione del campionato. Ci aspetto uno scontro diretto, quindi per noi è importante continuare la striscia di risultati che abbiamo fatto fino adesso. Sabato contro il Playroom non è una partita decisiva, ma comunque vi giocate una buona fetta di campionato. Sì, non sarà una partita decisiva perché dopo comunque ci sono ancora degli scontri diretti tra di loro, per cui gioco forza qualcuno dovrà perdere punti. Però diciamo che preferiamo che il nostro destino lo decidiamo noi e non aspettare poi i risultati da altri campi. Acchiaiano senza Del Deo, ma con un Valli in più, un attaccante che per caratteristiche può dare qualcosa di diverso rispetto a Muscariello? Sì, sicuramente Valli ha delle caratteristiche completamente diverse da Muscariello. Speriamo che riesca a continuare a mettere a disposizione della squadra, perché in questo momento abbiamo bisogno che ognuno riesca a mettere a disposizione del collettivo quelle che sono le proprie caratteristiche, anche se domenica insomma mancherà Del Deo, mancherà Mazzella sicuramente che ha problemi muscolari, mancherà qualche altro giocatore. Purtroppo questa partita di sabato qualcuno per motivi di lavoro molto probabilmente non potrà partecipare alla trasferta, quindi ci troviamo in questo momento con gli uomini un po' contati e dobbiamo cercare di fare necessità a virtù.